Questo programma è offerto da... Euronix Tufano aderenti. Euronix, un mondo più avanti. Per un parente nel pronto soccorso affollato. Are interne. Il governatore De Luca inaugura nuovi spazi ospedalieri. Sui pronto soccorso in emergenza dice chiederemo disponibilità a medici affini. Per l'irpina denuncia shock. Qui un mercato oncologico verso il nord. Caivano, 26enne con precedenti per spaccio, sparato ad una gamba nel paese più controllato d'Italia. Tuona il comitato legalità e la dimostrazione che contro la camorra le passerelle non servono. Mobilitazione studentesca da Cerra. I alunni del liceo chiedono alle istituzioni impegni contro il biocidio determinato dall'inquinamento ambientale. Sabato manifestazione in piazza. Questa sera in onda lo speciale Prima TV dedicato al piccolo Mario, ai bambini affetti da malattie genetiche rare. Arriva la raccolta fondi per aiutare la ricerca a trovare una cura alla sindrome CHOPS. Detenuto muore in cella appoggio reale. Prende corpo all'ipotesi omicidio. Continua le aggressioni alla polizia penitenziaria. Il caso del 25enne è condannato a 5 anni per un'essorsione di 2 euro. Ora i domiciliari, il punto dei garanti sulle carceri. Dopo la sentenza della Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato all'epoca da Diego Armando Maradona per la presunta evasione fiscale, parla l'avvocato Angelo Pisani. È ora che il fisco chiuda la vicenda. Dopo la batosta di Torino, il Napoli cerca la concentrazione giusta e il ritiro a Pozzuoli. Lega Pro colpo Iano. L'esterno di fascia argentino approda Lavellino. Lavori allo stadio per la sfida alla Juve Stabia. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Con l'informazione di Prima TV in apertura la cronaca. Misure cautelari per il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. Con lui anche due dipendenti comunali e cinque imprenditori. Sono tutti accusati alla procura di Nola di corruzione turbativa d'asta. È finito agli arresti domiciliari. Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. Tra i destinatari di otto misure cautelari emesse dal GIP di Nola su richiesta della locale procura al termine di indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Oltre al sindaco risultano indagati due dipendenti comunali e cinque imprenditori. I reati ipotizzati sono a bario titolo corruzione, turbata, libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato. I militari hanno notificato gli arresti domiciliari al sindaco e ad un altro indagato, mentre per le altre persone coinvolte sono stati eseguiti tre divieti di dimora e tre divieti della durata di un anno di contrattare con la pubblica amministrazione. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori sono finiti gli appalti di lavori, forniture e servizi, secondo i carabinieri e la procura concessi in cambio di denaro o altre utilità. E' emerso anche un presunto tornaconto elettorale connesso all'assunzione da parte degli imprenditori beneficiari dell'appalto di soggetti segnalati dai pubblici ufficiali. Complessivamente sono 19 le persone iscritte nel registro degli indagati della procura di Nola. Arrestato l'uomo che ha rotto denti e naso all'infermiera all'ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabbia si tratta di un pregiudicato che pretendeva una precedenza per un parente nel pronto soccorso affollato. E' stato fermato a una manciata di giorni dalla brutale aggressione che lo avrebbe visto protagonista tra i corridoi dell'ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabbia, il presunto responsabile delle violenze ai danni di un'infermiera e di sua sorella. A scagliarsi contro le donne che si sarebbero rese colpevoli di non aver voluto curare in via esclusiva un suo familiare, 39enne, pregiudicato, noto per essere un ultrasfacenoroso della Juve Stabbia, peraltro in questo momento sottoposto a Daspo e con precedenti anche per rapina e traffico di reperti archeologici. Avrebbe colpito con un gancio in faccia la prima infermiera e poi, insieme a un complice, avrebbe aggredito anche l'altra infermiera in servizio in quel momento, sorella della prima vittima, tirandole violentamente i capelli e provocandole un trauma cranico. Le indagini, coordinate dalla procura di Torre Annunziata, hanno portato gli agenti a raccogliere le testimonianze delle vittime, dei sanitari e di una guardia giurata presenti in struttura al momento della violenza. Identificato il sospettato, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, dove hanno trovato un ulteriore conferma dell'ipotesi negli abiti descritti dai testimoni. Il 39enne ora dovrà difendersi dalle accuse di lesioni gravi e danni di personale sanitario e di violenza a pubblico ufficiale, accuse per le quale rischia un massimo di 10 anni in carcere. Due nuovi drappelli di polizia saranno istituiti, uno proprio al San Leonardo di Castellamare di Stabbia, l'altro al San Paolo di Furigrutta. Dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato in Prefettura a Napoli, arrivano le prime misure di tutela nei confronti del personale sanitario dopo le aggressioni degli ultimi giorni. Un drappello di polizia H24 al San Paolo di Furigrutta, un presidio delle forze dell'Ordine al San Leonardo di Castellammare. Questo è quanto emerso nelle ultime riunioni istituzionali che si sono tenute dopo i recenti casi di violenza e i danni di medici e sanitari in servizio nei presidi del Partenopeo. Dopo l'istituzione dei primi drappelli al Cardarelli, al Pellegrini, all'ospedale del Mare a Napoli, al San Giuliano di Giuliano in Campania, ora il provvedimento deciso dalle istituzioni dopo le pressioni dell'Associazione Nessuno Toc Ippocrate, che da tempo denuncia le violenze e i danni di medici e infermieri, sbarca anche a Furigrutta e a Castellammare di Stabia, lì dove l'anno è iniziato con l'aggressione di un'infermiera. Ecco le parole in merito del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Abbiamo anche deciso che tutti i presidi sanitari diventino obiettivi sensibili, ciò significa che anche le forze di polizia territoriali sono chiamate a fornire un contributo fattivo in termini di vigilanza, di controllo, anche di sosta presso i presidi sanitari, perché tutto questo concorre ad una deterrenza importante. Ci sarà un monitoraggio continuo di tutti questi obiettivi sensibili e io mi sono riproposto che fra un mese, un mese e mezzo, dopo che faremo un monitoraggio di come l'andamento di tutte queste attività si svolgerà, si snoderà, avremo anche la possibilità di adottare misure forse più mirate. Aree interne. Il governatore De Luca inaugura nuovi spazi ospedalieri. Sui prontosoccorsi in emergenza dice chiederemo disponibilità a medici affini. Per l'Irpina invece arriva una denuncia shock. Qui un mercato oncologico verso il nord. Ascoltiamo un estratto dell'intervista. Noi abbiamo tenuto ieri una riunione con il nostro personale per inventarci qualcosa, per riempire di personale i prontosoccorsi. Noi abbiamo almeno una decina di prontosoccorsi che sono bloccati perché non c'è personale. Abbiamo fatto i concorsi ma i medici non si presentano. Allora cercheremo di utilizzare anche specialisti di specialità affini, cardiologi, gastroenteristi, per chiedere ore da mettere a disposizione per i prontosoccorsi. Parliamo ovviamente di Santa Maria Capovetere, Maddaloni, Scafati, Bosco Tre Case. Sono almeno una decina di prontosoccorsi che non vanno avanti perché non c'è il personale. Bene, il Governo nazionale stanza 3 miliardi di euro che servono a malapena fare i rinnovi contrattuali. Ma dobbiamo sapere che se non c'è un adeguamento generale, il personale medico nei prontosoccorsi non andrà a lavorare. Se dobbiamo registrare qualche fenomeno che riguarda un altro campo, l'oncologia, che abbiamo ad Avellino una eccellenza internazionale, che è il professore Gridelli. Registriamo partenze verso Milano da Bagnoli-Irpino e da Mercogliano perché magari c'è qualche campano che lavora a Milano e viene a portare i pazienti da Avellino, dalla Campania a Milano senza nessuna necessità, per pure ragioni speculative. Quindi ne approfitto per fare appello perché questo mercato oncologico sia interrotto perché c'è la possibilità di curare pazienti oncologici ad Avellino ripeto, avendo una delle eccellenze mondiali in questo campo, il professore Gridelli. Ma c'è gente che ha voglia di speculare perfino sul dolore e sulla malattia delle persone. Poi magari vanno a Milano, si operano e tornano in Campania dove noi dobbiamo intervenire per le conseguenze di alcuni interventi fatti male. Continuiamo con la cronaca. Un 26enne con precedenti per spaccio è stato sparato ad una gamba nel paese più controllato d'Italia. Stiamo parlando di Caivano. Tuona il Comitato Anticamorra per la legalità dice che questa è la dimostrazione che contro la camorra le passerelle non servono. Sono circa le 21, domenica 7 gennaio, quando un ferito a colpi d'arma da fuoco arriva in ospedale a fratta maggiore. Nel giro di pochi minuti sul posto intervengono i carabinieri per avviare le indagini. Non è grave, il proiettile lo ha raggiunto ad un polpaccio. Può parlare, può raccontare, lo fa. A 26 anni e nelle informativi dell'arma viene inserito in ambienti legati allo spaccio. Niente di strano, fino a che non ha spiegato ai militari che sarebbe stato ferito da sconosciuti mentre si trovava sul territorio di Caivano. Già, proprio la zona che da mesi è sotto la lente dell'intero paese dopo il caso delle due cuginette minorenni sottoposte a stupri di gruppo ripetute al Parco Verde. Com'è possibile che nella zona più presidiata d'Italia possa essere registrato un ferimento a colpi di pistola? E' la domanda che si pongono ai rappresentanti del Comitato Anticamorra per la Legalità ai quali sostengono che l'episodio conferma che contro la camorra non servono le passerelle e che la repressione da sola non produce alcun effetto concreto duraturo. Ci spiace dirlo, hanno aggiunto commentando l'accaduto, ma è la dimostrazione che la ricetta da seguire non è quella della repressione delle operazioni spot e delle passerelle. Secondo i rappresentanti del Comitato la strada intraprendere è un'altra ed è fatta di repressione ma anche di prevenzione e la prevenzione passa attraverso interventi che vadano ad incidere sulla formazione delle nuove generazioni e che creino lavoro. Mobilitazione studentesca ad Acerra. I alunni del liceo chiedono alle situazioni impegni contro il biocidio determinato dall'inquinamento ambientale. Alle sabato ci sarà una manifestazione in piazza. Sul biocidio accendere i riflettori, lo chiedono gli studenti del liceo Alfonso Maria Deliguori di Acerra. Anni fa, mentre la classe dirigente tentava di nascondere la realtà, pochi coraggiosi dottori fanno sapere in una nota stampa realizzarono controinchieste, scoprendo che chi nasce nel nostro territorio soffre di un indebolimento a livello del DNA. Una condanna dalla nascita ha una probabilità molto più alta di contrarre tumori e morire di tumore rispetto ad una cittadina di qualunque altra regione. Così gli studenti di Acerra rilanciano l'avvertenza ambientale. Dopo lo stanziamento di ulteriori 27 milioni da parte della regione all'inceneritore che potrebbero essere investiti per lavorare sulle problematiche ambientali, gli studenti evidenziano che si è persa la coscienza della condizione drammatica in cui versa la città. Da qui il bisogno di prendere la scuola, prenderne uno spazio, mantenere aperto il confronto e organizzare una manifestazione contro il biocidio. Con questa occupazione vogliamo che il biocidio torni sotto i riflettori di tutta la regione, hanno dichiarato ancora invocando una manifestazione ad Acerra per sabato 13 gennaio alle 16.30 in piazza Duomo come quella di ottobre che portò in piazza circa 14.000 persone. Ieri intanto il vescovo è tornato sul tema ambientale nel corso di una manifestazione svolta ad Avellino dove ha rilanciato il tema delle eco-mafie. Certamente c'è il nesso molto forte tra il danno ambientale e la criminalità organizzata. Ormai le mafie sono quasi tutte eco-mafie, cioè hanno a che fare con la gestione dei rifiuti, dell'inquinamento ambientale. I grandi business ormai, gli affari, le grandi organizzazioni malabitose le fanno ormai già da 30-40 anni, le fanno quasi esclusivamente nella gestione dei rifiuti, costruiscono i loro imperi e di là deriva poi tutto il dramma ambientale delle nostre terre. Malattie genetiche rare, ricerca e l'importanza della solidarietà. Ne parliamo stasera a partire alle ore 21, nello speciale di Prima TV dal titolo Spingiamo Mario. Inizio racconteremo la storia del piccolo di un ancora tre anni affetto dalla sindrome di CHOPS e del grande impegno dei familiari della neonata. Fondazione CHOPS, gli aiuti economici ricevuti diventano screening farmacologici e assegni di ricerca affinché si possa avviare una cura della patologia multiorgano. L'intervista alla famiglia Zampella Malammacci andrà in onda alle 21 e sarà poi disponibile sui nostri canali social. Un detenuto muore in cella Poggio Reale, prende sempre più corpo l'ipotesi dell'omicidio, contivano le aggressioni alla polizia penitenziaria del caso di un 25enne condannato a 5 anni per un'essorsione di 2 euro. I garanti dei detenuti fanno il punto sulle carceri. Altra morte sospetta tra le mure del carcere di Poggio Reale di Napoli. All'interno della sua cella ha perso la vita in circostanze sospette nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Alexandro Esposito, 33enne, originario di Miano e residente a San Giorgio a Cremano. Doviva esserci l'autopsia per approfondimenti, ma è stata rinviata per malattia del medico legale di turno. Nel frattempo si sono aperte le indagini sull'ipotesi di omicidio contro i gnoti. A far discutere in questi giorni anche il caso di un mendicante di 25 anni nigeriano che è stato condannato in primo grado per estorsione dopo aver chiesto a una persona per strada per due volte di avere 2 euro. Il giovane Kelvin Egubor, senza fissa dimoria di origine nigeriana, è detenuto nel carcere di Poggio Reale da 20 mesi. Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, e il garante dei detenuti per la campagna Samuele Ciambrillo, lanciano l'allarme. La pena in questo caso è sproporzionata e la politica è sempre più lontana dall'affrontare l'emergenza carceri. Ecco le loro parole. Il responsabile di tutto quello che succede nelle carceri evidentemente va ricercato nel mondo della politica, non solo quella attuale, ma quella attuale secondo me ha maggiori responsabilità. E' Gubor Kelvin, mendicante nigeriano, 25 anni. Come si fa a mandare in carcere Giacistan con una condanna in primo grado di 5 anni per estorsione, quello che fanno i camorristi? Intanto è stata confermata anche in corte d'appello la condanna a 5 anni di reclusione per il 25enne nigeriano. A renderlo noto sono il suo legale l'avvocato Antonella Salvia e il garante campano dei detenuti Samuele Ciambrillo. Il 25enne, come abbiamo ascoltato anche nel servizio, ha già trascorso 20 mesi nel carcere di Poggio Reale. Soltanto adesso ci sono stati concessi gli arresti domiciliari presso una struttura accreditata che si è resa disponibile ad accoglierlo visto la delicata situazione del nigeriano inquadrato come un senza fissa dimora. Disposto invece il divieto di dimora per un 34enne di Grotta Minarda accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie. E' scattato il divieto di dimora per il 34enne di Grotta Minarda accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie. L'indagato era stato denunciato dai carabinieri alla procura di Benevento che aveva disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna. Le indagini hanno accertato che l'uomo da anni minacciava e picchiava la moglie alla presenza dei figli. Di fronte al rifiuto di indossare il braccialetto elettronico, il GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della procura, ha disposto il divieto di dimora dell'indagato a Grotta Minarda. Le indagini sono scattate in seguito alla querela da parte della donna che da anni subiva abituali vessazioni, ingiuri e minacce, aggressioni fisiche poste in essere anche alla presenza dei figli, nonché violenze sessuali reiterate con approcci avvenuti davanti ai due minori. Le testimonianze della madre e di un'amica della vittima hanno consentito di raccogliere elementi di riscontro rispetto a quanto riferito dalla donna ai carabinieri, condizione ulteriormente avvalorata dalle dichiarazioni della psicologa del centro antiviolenza al quale si era rivolta la vittima, tutto accertato dalla documentazione sanitaria acquisita. Ed ora apriamo una parentesi sul calcio. La crisi del Napoli ad oggi non conosce confini. Dopo lo sconcertante K.O. di Torino ora arriva la decisione da parte della società che ha optato per un ritiro fino alla prossima Supercoppa. Tutti chiusi in albergo in ritiro, lontani dalle polemiche e da ogni tipo di distrazione per ritrovare concentrazione e serenità e rimettere in carreggiata una situazione che al momento sembra drammatica. Si torna un po' alle vecchie maniere, quelle che non si addicono per nulla ai campioni d'Italia. Ma il Napoli di adesso non ha nulla a che vedere con quello vincente e sereno di appena qualche mese fa. Intanto il presidente De Laurenti si ha riprovato l'assalto ad Antonio Conte. Non una mancanza di rispetto per Mazzarri, ma serve un colpo importante per voltare definitivamente pagina. Il patron ha iniziato l'affondo già domenica sera e ieri ha insistito per tutto il giorno, pronto a piegarsi alle richieste colossali dell'ex CT. Contratto di tre anni e mezzo, otto milioni di ingaggio, carta bianca sul mercato, l'arrivo nel club di un nuovo DS e del suo immancabile uomo di fiducia Aureali. Il patrone Conte avrebbero anche discusso della possibilità di liberarsi senza clausole, vincoli, penali, milionare. Ma Conte ha frenato e se ne potrebbe riparlare a giugno. Si procede quindi con Mazzarri e non ci sarà nessun altro traghettatore nonostante si faccia ancora il nome di Fabio Cannavaro. E nel TG Sport di oggi, oltre al ritiro del Napoli, spazio alla Tadernitana che bussa alla porta dell'Atalanta per due calciatori e all'Avellino che mette a segno il colpo. Manuel Iano, esterno di fascia argentino. Nel frattempo, il club Irpino attende l'ok per la capienza del partenio Lombardi e installa i sediolini in tribuna Terminio in vista del big match contro la Juve Stabia. Ci fermiamo ora per una breve pausa. L'informazione torna tra poco. Rieccoci in studio con l'informazione. Una ventina di persone, tra cui anche occupanti abusivi dei prefabbricati Taverna del Ferno che devono essere abbattuti, ha occupato degli uffici del comune di Napoli per avere un incontro con il vice sindaco Lieto. Hanno occupato la stanza di un consigliere comunale per rivendicare la propria posizione. È l'azione compiuta da un gruppo di circa 30 persone appartenenti al comitato di lotta ex Taverna del Ferro, il rione di case popolari nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli, conosciuto anche come il Bronx, in riferimento al noto quartiere popolare di New York. Per le case popolari, nell'ambito di un maxi progetto di riqualificazione della zona, è prevista la partenza degli abbattimenti a partire dal mese di febbraio. Un piano che porterà la ricostruzione delle palazzine, finanziato dal PNRR per 106 milioni di euro. I componenti in protesta e alla ricerca di risposte dal sindaco Gaetano Manfredi, non avendole ottenuto e hanno comunque lasciato la sede del Consiglio Comunale e cercheranno un confronto con l'amministrazione nei prossimi giorni. Siamo sempre alla ricerca del diritto alla casa, sentiamo la portavoce del comitato Taverna del Ferro. Il comitato insieme agli abitanti chiede di essere ricevuti dal sindaco perché c'è una questione che bisogna chiarire ed anche in fretta perché visto che da qua a un mese si apre il cantiere per le case nuove destinate a Taverna del Ferro, per adesso il primo cittadino non si è visto sopra, adesso i compagni sono in occupazione, stanno dialogando, credo, con le forze dell'ordine e anche con la Presidente del Consiglio e stanno cercando di trovare quantomeno di ottenere un appuntamento a brevissimo con il sindaco. Dopo la sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso presentato all'epoca da Diego Armando Maradona su una presunta evasione fiscale è giunto il momento che il fisco chiuda definitivamente la vicenda, lo ha detto l'avvocato storico legale del PIB De Oro, Angelo Pisani. Dopo la sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso presentato all'epoca da Diego Armando Maradona su una presunta evasione fiscale, il suo avvocato, Angelo Pisani, ha chiesto che il fisco chiuda definitivamente la vicenda. Lo storico legale del PIB De Oro chiede un intervento del Governo affinché, in via di autotutela, siano chiuse definitivamente le altre pendenze derivate dalla vicenda principale, ovvero la presunta evasione che è stata oggetto del giudizio della Suprema Corte. Lo ha detto oggi la Cassazione, no, tutti quelli che dovevano saperlo, gli addetti ai lavori, i responsabili di Equitalia, sapevano che Maradona era innocente, ma nonostante ciò hanno preferito utilizzarlo come capo ispiratorio della lotta all'evasione fiscale, punire Maradona per punire tutti, doveva passare questo messaggio, e invece oggi mi piacerebbe che passasse il messaggio che Maradona ha detto la verità, ancora una volta quello che lui ha detto è la verità, e soprattutto che il fisco deve essere trasparente e giusto con i contribuenti, tutti devono pagare le tasse in maniera proporzionale, ci deve essere un confronto e non ci devono essere più perseguizioni come quella che ha subito Maradona, che è un caso simile, se non più grave, di quello di Enzo Tortola. Resta però l'amarezza, confessato illegale, per tutto quanto accaduto e per le mortificazioni subite. Il ministro potrebbe avvocare a sé la pratica e in autotutela d'ufficio risolvere la questione e dichiarare definitivamente cessata la materia del contendere, senza aspettare anche gli ulteriori procedimenti che sono in corso, che verranno chiamati alle prossime udienze e dove si dovrà ripetere sempre questa storia, perché ormai tutto il mondo sa che Maradona non è stata un'evasione fiscale. Chiudiamo con la politica. Una decina di nuovi ingressi a Forza Italia a livello locale, mentre presto altri parlamentari aderiranno, parola di Tajani, che ha annunciato in una conferenza stampa tre sindaci e consiglieri provenienti dalla Campania. Sala piena al Vesuvio per il congresso di Forza Italia dove ha preso parte il numero uno Antonio Tajani, focus sulle prossime europee e regionali. Il ministro degli Esteri dichiara l'unico voto utile è quello, dice rispetto al voto di giugno in cui chiede la preferenza di scapito degli alleati di governo e poi non sono d'accordo al terzo mandato riferendosi ad un presunto patto tra Lega e Democrat per dare il via libera alle corse di Zaia in Veneto e di De Luca in Campania. Io qualche riserva sul terzo mandato ce l'ho, l'ho sempre detto, naturalmente il Parlamento discuterà, parleremo con i nostri alleati ma dubbi sul terzo mandato per quanto riguarda i presidenti delle regioni lì ho perché poi troppi anni una stessa persona significa abituarsi ad avere un non vale discorso no ma la democrazia la democrazia il voto deve anche prevedere un po' di alternanza. Poi sul voto di giugno apriremo ancora di più il nostro partito a nomi esterni a cominciare dalle candidature per le europee l'obiettivo è raggiungere e superare il 10% le elezioni europee per arrivare al 20% alle prossime politiche una Forza Italia che si apre siamo pronti ad avere esterni nelle nostre liste alle prossime europee in nome del partito popolare europeo quindi aggregare sempre di più per essere un punto di riferimento avere una visione che riguarda il nostro paese che deve essere più moderno più competitivo Con questo servizio si conclude l'informazione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi a Grazie a tutti.